Buongiorno amore Questo? Una bella fetta di pizza come quella dell'autogrill A colazione Ma poh! Come recita un antico proverbio Se non hai un autogrill a portare di mano Sì tu stesso l'autogrill Quindi mi sono precipitato nella stanza dello spirito e del tempo A preparare questa tipica colazione italiana Partendo dalla solita pallotta e dalle solite mosse segrete Dopo una fallimentare esibizione da maschio alfa Ho spalmato con le mani come fanno nei migliori video virali Che però vanno virali solo agli altri Perché a noi maina gioia E' concluso il lavoro con le porzioni adeguate Un tocco davvero duri e un pizzico di pucci pucci Ecco a te B C Oh vabbè però soddisfatta